Macro categoria HR. Il premio è quello di HR Team dell'Anno Diversity and Inclusion. Andiamo a leggere insieme la motivazione. Il premio va a... Vodafone. Io invito a raggiungermi sul nostro palco, quindi ai nostri studi, Ilaria Dallariva, HR and Organization Director di Vodafone. Ilaria, benvenuta. Grazie. L'ingresso con tanto di... Grazie. ...perredito subito che passa nelle tue mani. Bellissimo, una grande emozione, confesso. Sono molto contenta che il lavoro che stiamo facendo con l'azienda e con i dipendenti sia stato riconosciuto. E un grazie anche al mio team. Grazie. Naturalmente, benissimo. Lo appoggiamo. Poi dopo ovviamente questo è vostro, è proprio già, come dire, assegnato direttamente a voi. Allora, è un premio che peraltro viene a inserirsi in un contesto, quello che stiamo vivendo, complicato. E siccome parliamo di comunicazione, il lavoro com'è stato in questo periodo? Beh, allora, sicuramente complesso dal punto di vista delle relazioni, perché insomma siamo tutti abituati a lavorare insieme, a vederci. È chiaro che per un'azienda come la nostra, che è un'azienda digitale, dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro e dalla capacità di dare risposte è stata eccellente. Anche perché lo smart working apparteneva alla nostra tradizione da anni, quindi siamo stati più agevolati. Ecco, perfetto. Abbiamo letto, io passo subito a riprendere la motivazione che ho letto poco fa, Ilaria, se sei d'accordo. Perché a parte leggere il modello di eccellenza e di impegno pluriennale nel creare un ambiente lavorativo inclusivo, quindi ancora di più, no? Ci addentriamo in questo discorso, però leggiamo appunto fattori importantissimi come abbattimento di pregiudizie e barriere, quindi chiaramente si parla di diversità e inclusione, no? Creare un ambiente che possa essere veramente, veramente perfetto sotto ogni punto di vista. Guarda, il mio live motive è la differenza fa la differenza. Quindi credo che la capacità che può avere un'organizzazione o un'azienda di cogliere ogni tipo di differenza, da noi ad esempio convivono quattro generazioni, no? Ragazzi sotto i 25 anni, dai 25 ai 35, 35-45 e oltre. Questo è un valore importantissimo perché ragazzi giovani, grandemente digitalizzati, però sicuramente con una meno esperienza, lavorano con persone di esperienza e magari con meno competenze digitale. Quindi questo concetto di diversità veramente che abbraccia ogni area, non solo evidentemente quella di genere su cui ci siamo impegnati. In casa nostra abbiamo un 53% di donne, quindi da un punto di vista di percentuale, quando andiamo a vedere, come dire, il posizionamento sulle posizioni manageriali, siamo comunque al 38%, che è un buon successo che si è costruito evidentemente nel tempo, che oggi appartiene veramente al DNA della nostra azienda, al concetto di inclusione e di diversità come valore. Ecco, come giustamente hai rimarcato tu, non riguarda solo l'aspetto femminile, ma tutti gli aspetti che differenziano le persone, no? Quindi è proprio il valore aggiunto, cioè creare un team che possa dare il contributo a seconda di aspetti, mentalità, visioni diverse, che però si concentrano tutti verso lo stesso obiettivo e sulla stessa strada. Esatto. Provenienze diverse, studi diverse, cittadinanze diverse, veramente un concetto di pluralità e di apporto, direi, completo da ogni punto di vista. Certo, Ilaria, mi piacerebbe chiederti anche da questo momento in avanti, insomma, chiaro si proseguirà sulla strada incanalata, ma visto che il contesto anche lavorativo, ma non solo, quello sociale è cambiato profondamente, no? Probabilmente sarebbe cambiato a prescindere, ma insomma abbiamo avuto questa accelerazione dovuta a cause esterne, però di necessità virtù, come guardare appunto al futuro? Da che basi partire in questo momento? Noi abbiamo affrontato questo tema con un progetto che abbiamo chiamato Future Ready Vodafone e ci siamo chiesti come costruire un futuro che dovesse da una parte tener conto dello smart working, perché ormai è e sarà comunque una modalità che ci appartiene, ma dall'altra parte non fermarsi semplicemente a una definizione di percentuali, ma anche questo tema e quindi anche l'organizzazione l'abbiamo voluta affrontare con grande attenzione sui temi dell'inclusività. Lo smart working può, se non gestito, creare problemi di allontanamento di categorie o più deboli o comunque il rischio è che questo strumento, fra due o tre anni, se non presidiato, diventi lo strumento utilizzato dalle mamme, dalle donne e quindi si ritorni indietro e questo non è sicuramente quello che vogliamo e quindi abbiamo lavorato insieme anche alle nostre organizzazioni sindacali creando un accordo che si ponesse come punto di arrivo come includere qualunque categoria e quindi genitori single, genitori con figli con disabilità, persone che hanno problemi di salute e a questi abbiamo detto siete voi a gestire quanto volete stare a casa o quanto volete venire in ufficio e questo è sicuramente un modo per essere sempre attenti ai temi di inclusività. Certo, dare anche peraltro una responsabilità diversa che viene declinata in modo diverso alle persone che lavorano in team credo che anche questo aspetto sia essenziale. Ma sai, io credo che uno degli ingredienti fondamentali dell'inclusione sia la fiducia, il trust che uno sa costruire con le proprie persone l'empatia inteso come non simpatia ma capacità di cogliere i bisogni dell'altro all'interno di un'organizzazione e questo è quello che stiamo facendo insieme non solo come HR ma anche con tutti i colleghi di Vodafone. Beh, però direi visto che siamo nella categoria HR è un aspetto che insomma dal quale non si può prescindere poi in organizzazione generale ancora di più. Io Ilaria ringrazio tantissimo te, ringrazio il tuo team e porta i nostri complimenti naturalmente a tutti coloro che lavorano con te e che sia di buon auspicio anche per guardare il futuro non ce n'era bisogno perché lo sapete già fare molto bene, però insomma avere un riconoscimento ogni tanto, sentirsi dire siete bravi io credo che faccia bene. E tutto questo senza il mio team di HR non sarebbe stato possibile, quindi lo voglio ringraziare qua in diretta. Assolutamente, va bene. Allora grazie Ilaria Dallariva, HR and Organization Director di Vodafone naturalmente questo premio, HR team dell'anno Diversity Inclusion che va a Vodafone e adesso questo te lo ripasso mentre ti saluto. Grazie, lo porterò ai miei colleghi. Grazie a te e al tuo team. Grazie. Grazie.